Sono quasi terminati, a breve inaugureremo il Teatro Branco Sant'Angelo in Lissola, stanno lavorando a velocità supersonica nel campo sportivo per finirlo verso il 20 di questo mese, e così la pista pedonale ciclabile che collega Montecchio con Bottega, una pista bellissima che renderà più sicuro il percorso, stanno ultimando entro la fine del mese i lavori della sistemazione idraulica del Monte di Montecchio per oltre 400 mila euro, Marche Multiservizi sta accelerando sul depuratore di Montecchio di oltre 5 milioni di investimenti e sta progettando, a breve dovrebbero procedere all'appalto, per la depurazione e le fognature del Monte di Colbordolo e del centro storico di Montefabri. Questa sarà la settimana decisiva dell'anno scolastico, ormai siamo agli sgoccioli con i preparativi per tornare ad accogliere al meglio i nostri alunni. In queste settimane i collaboratori scolastici hanno veramente dato il massimo della loro professionalità per attrezzare le sedi secondo le disposizioni normative. La scuola ha redatto un protocollo di sicurezza anti-covid che tra qualche giorno verrà reso pubblico e quindi condiviso con le famiglie. Sarà un anno scolastico molto particolare per tanti aspetti difficile, ma noi lo affronteremo al meglio anche perché possiamo contare sulla grande professionalità, la grande passione, la grande energia dei nostri docenti e di tutto il personale della scuola. Le misure anti-covid certamente andranno a impattare sulla offerta formativa, non facendola scadere di qualità perché l'offerta formativa della scuola risponde a un dettato costituzionale al quale dobbiamo necessariamente rispondere. Ma dal punto di vista logistico certamente alcune cose andranno riviste. Affronteremo tutto giorno per giorno nel migliore dei modi, confidando nella collaborazione e nella partecipazione responsabile di tutti. Grazie a tutti.